e benvenuti benvenuti a tutti quanti sono mia sono mia e qui siamo in un regno di poni praticamente vedete le principesse Twilight della nuova serie di tutta la famiglia Apple e più abbiamo due cose d'ascarte la la più piccola ecco perché ci siamo anche noi è una leoncina con un furetto e specie di castella degli Apple perciò cominciamo ad aprire questo enorme quindi con Granny Smith e questa Apple che figata pazzesca ok prontissimi a scartare e credo che gli Apple li sposterò bene cominciamo da di fianco sfondiamo la scatola e un momento un momento Tornate le camere. Molto belli. Come faccio? A me piace sfondarle le scatole e non aprirle normalmente. Sotto possiamo vedere un altro artwork di lei, di questa polistana. Fatto. Ora tiriamo fuori. Ok. Forse. Vediamo fuori. Ah. Ed eccolo qua. Adesso avviamo quello che poi vedete meglio a pienire. Sotto abbiamo uno scotch. E io le ho forbici. Poi ce le vado un momento a prendere. Ok. Non ho preso le pallici ma un cortello. Perché sto in cucina. Pensate che nemmeno serve. Per fare il legno. Per fare il legno. Io non mi posso sentire mentre guardo. Cioè. Faccio schifo. Faccio schifo. Sto a prendere. Questi cristi. Sto a prendere. Allora. Sto a prendere. Primo. Vabbè. Vabbè. Devo stogliere anche il secondo. No. Secondo. Di questi qua. Che fatica poi. Alleluia. Alleluia. Lo scotch. Scusate. Vorrei che alcune volte non lo fissi. Perchè. 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 A partire. Oh. Ok. Attante il fienile. finito ho intanto aperto il fianile no, io devo togliere questi twist questa è una specie e il fianile è tolto ecco questo è il tavolo ecco questo e finalmente lo sento di Pony con questa la città è linda con la salla che si dovrebbe attaccare a questo sto provando a infilarlo guardando la tega non ce la fa mai facciamo un momento era il contrario che stupida è un po' come questa granny sono tutti e due questa specie di carrello ciao ehi aspetta con queste zampe poi continuiamo che adoro questo pane perché adesso dicevo questa è una sottospecie di tovaglia quella che ha l'ho di Apple sembra quella che è Apple che ha la spike ecco qua stupenda stupenda eh poi c'è una cosa troppo tenera per Fluttershy qua si ha questo microbo forse mi devo sbrigare perciò mi sbrigo poi abbiamo una mela caramellata poi abbiamo questo muffin che nella figura se lo mette in testa ma non se lo metterà mai perciò è inutile che ci provo perciò Scusate, non ce ne riesco, questo, questo, questo. Questo, 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 questo. Sì. Ok. E intanto per tirare cinta degli app. Ok. E ciao, è tutto ok? Ah, che cagliata! Adesso noi ci spostiamo un momento. E questo è hi-ha. Devo qua.